Buon pomeriggio a tutti, e allora? Bentornati, bentornati nella Randomauro di Dark Souls 3. Allora, last time siamo arrivati da Walnir, che non era Walnir ma era mio fratello Sol of Cinder, ci ha fatto penare parecchio. E ora ci facciamo una zona che amo, personalmente la adoro, Iritil Lore. Bentornato con il terzo mese, grazie per tenermi in compagnia durante lo studio, grazie a te, per seguire e per supportare, grazie Lore. Buon pomeriggio Gintoccone, Volperi X, benvenuto, Turkish, Arnaldone. Allora, si apre con Gael? No, 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 non apriamo con Gael, si apre ovviamente tornando dove eravamo rimasti, quindi, hop, ed eccoci qua. Andiamo a Iritil, andiamo a Iritil, vediamo un po' cosa ci aspetta a Iritil. Quindi, Iritil della Valle Sboreale, si va. Ciao Destiny! 65 trasmissioni di Gintoc! Non de mordo si supera Giacomo, eh, non lo so, non lo so, non lo so, questo è da vedere. Ciro con 40, eh, non so mica poche, non so mica poche. Allora, saluto drip del Maurone, guarda qua il Maurone comunque, piccolo momento di appreciation per il Maurone. Boom, fatto. Lì c'è un oggettino, mi sa che l'abbiamo preso la volta scorsa, sì. E ci facciamo un giro sul ponte, guardate qua. Bloodborne 60 FPS, chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe mai detto? Chi viene? Oh, un lucertolazzo. Onestamente qui qualunque cosa sarebbe stata meglio di quella che c'è originalmente, quindi. Temo che comunque non ci dropperà un cazzo. O meglio, non è che non ci dropperà un cazzo, non ci dropperà titanite. No, guanti del Nord e pillola gialla. Ufficiale Riser, sì. Questo è ufficialmente Bloodborne 60 FPS. Ho lanciato un telesmano di Lloyd su un Mimix. Sì, sì, assolutamente Destiny. So come funziona. E qui dovremo poter passare. Esatto, perché abbiamo la bambolina. Come vi ho già ricordato le volte scorse, ma lo ricordiamo anche adesso. Sono stati randomizzati tutti gli oggetti e tutti i nemici. Rispettivamente i nemici sono randomizzati per categoria. Quindi un boss sarà sostituito da un boss. Un nemico base sarà sostituito da un nemico base. E un nemico, diciamo, strong, come poteva essere quello che incontriamo qui sul ponte. Quindi un nemico mid-boss viene sostituito da un nemico della stessa categoria. Mentre gli oggetti sono tutti randomizzati, ad eccezione degli oggetti chiave. Come per esempio la bambolina che abbiamo appena utilizzato per superare la barriera di Irithyll. Ciao Vincenzo, ciao la chatta anche di TikTok. Ciao ragazzi. Quella è chiusa se non sbaglio, sì. Ok. Beh, il lupo qua fitta. Il lupo fitta. Lo scheletro che c'è lì dietro un po' meno, ma vabbè. Aia. Devo dire, questa prima parte di Irithyll onestamente non può andare tanto peggio di com'è la vera Irithyll. Perché qua ci sono dei mob rottissimi e quello sul ponte penso sia una delle cose più sbagliate di tutto il gioco. Quindi questa parte non mi preoccupa troppo. La seconda parte di Irithyll dove c'è un po' più di confusione è lì che secondo me vedremo i problemi. Perché il problema nella rando ormai, quello che ho capito, è questo. Quello che ho capito è questo. Dove ci sono tanti nemici deboli, ok? Che sono compensati dal fatto di essere deboli. Cioè ne mettono tanti perché sono deboli. Nella rando diventa un problema. Perché sono tanti nemici ma potenzialmente anche forti. E quindi quello è un po' il problema. Dove invece nelle zone normali ci sono pochi nemici forti, nella rando è molto meglio perché... Di base verranno sostituiti probabilmente con roba più debole di loro quindi. Ah, vedo che mi chiedono su ticchi tocchi se farò la return to Yarnam. In realtà l'ho fatta l'anno scorso, peraltro... Oh la mamma, ti aspetta un attimo. Andatevi a vedere il video della mia return to Yarnam su YouTube dell'anno scorso. Uno dei miei video preferiti, ci ho messo un sacco di tempo a farlo. Ma quest'anno mi sa che è schippo. Quest'anno faccio lo skip per otto, ragazzi. Non me ne vogliate ma... Troppe altre cose sto seguendo e... Non riesco a fare la run in tempo. Oh cazzo! Non l'avevo mai vista sta presa. Maledetto. Noi c'abbiamo ancora l'estus più uno, ecco. Anche quello potrebbe essere un problema effettivamente. Ma cos'è? Ah, guarda, è quello stronzo lì, eh. Maledetto. Ok. Ma il sanguinamento andrà avanti all'infinito. Cioè l'idea è che non finisce mai, va bene, ok. Eh, sono inverniciato, ho capito. Ma in teoria dopo un po' doveva andarsene, no? Qual è il mio souls preferito? Bloodborne. A mani basse, proprio. E non c'erò la torcia, palle. Lo so che la torcia toglie l'effetto, ma non abbiamo mai trovato una torcia, raga. Mai trovata una torcia, purtroppo. Eh no. Ricontrollavo perché sai, magari l'abbiamo beccata, non me ne sono accorto, ma no. Sì ragazzi, no, appunto, sto leggendo. Cercate di non fare spoiler, soprattutto di altri giochi in chat, mi raccomando ragazzi. Non sapete chi c'è, magari c'è qualcuno che non ha giocato il gioco, magari gli rovinate la run anche se non lo fate apposta. Quando Skyrim, adesso, adesso quitto qui subito. Sto chiudendo. Kamishiro, benvenuto, guarda. Chiudo e andiamo su Skyrim, via. Eh, Pier Giorgio quest'anno non torna agli Arnam, ma comunque Pier Giorgio non tornerà più su questi schermi. Forse non è mai esistito. Dovreste iniziare a chiedervi se Pier Giorgio non sia stata una grande allucinazione collettiva, ragazzi. In realtà questo è Skyrim, esatto. E che cazzo? Ne hai di vita, eh, bastardo. Boom. Non mi attaccare i tuoi vermiciatoli del cazzo. Allora. Via. Ok, Zitrones, sette mesi. Buonasera a tutti, buonasera a lei, Zitrones. Grazie, bello. Bentornato. Allora, allora. Qua il contadino si faceva abbastanza i cazzi suoi. Lui ha perso i sound effects per qualche ragione. E la melmaccia. La facciamo fuori così. Mi piace sto R2 che è un po' tipo, boom. Stiamo giocando a golf, guarda. Qui c'è la mia pallina da golf. Ah! Devo bere. Oh, pom! In buca. Boom. Ok. Comunque che bella Irithil, raga, dai. Porca miseria. Cioè, guardate che roba. Porca troia. Va qua. Guarda qua. Guarda, guarda. No, ma DS3 è proprio bello, eh. Non gli puoi dire un cazzo. Ok. Ah! Nox, perché Mauro ha sempre la stessa armatura? Questa non è un'armatura. Questa è la sua placenta. Da quando è uscito dal grembo materno è sempre stato così. Ciao nottone, aggiorniamo la schedule live alle 17. Ma in realtà non c'è una vera e propria schedule live al momento. Non c'è una vera e propria schedule live. Come vi sarete resi conto. Quindi, martello di Morne. Perché no? Eccolo qui, Morne. Create una lore sul perché Morne è lui ed è qui. Non c'è una vera e propria schedule live. Motivo per cui, motivo per cui, dovreste assolutamente entrare nel server Discord. In maniera tale da sapere quando ci sono le live. Allora, qui dovremmo trovare... No? Perché? Era una statua? Ma che cazzo? In teore non abbiamo fallito la quest. Boh. Ah no, sì, l'abbiamo forse fallita. Non siamo più andati... Non siamo andati giù. È vero, è vero, è vero, è vero. Ok. Eh, infatti non c'è Harry. Non c'è... Non c'è... Ah! Non male. La grande cappella, esatto, esatto. Questa in realtà è la grande cappella di DS3. Ok. Qui dove c'erano i cani, penso che qualunque cosa sia meglio dei cani a sto punto. Bracciolina. Non si disdegna. Vedete che è Bloodborne 60 FPS, ve l'ho detto. Guardate qua, la lumacozza. Resti umani? Ha senso però. Per caso questo è Bari? Ebbene sì, Cipe. Ebbene sì. Ci troviamo a Bari. Città vecchia. Qui. Resti umani? Non mi ricordo dove minchia arrivavano. Il Kine è benvenuto. Tra l'altro noi abbiamo già il sangue dell'animo scura. Perché no? Prova del deber cumplido de un fiel Aldrich. Aldrich. Perché no? Giustamente. Sembra che abbia randomizzato anche i testi, ma in realtà, semplicemente, chi ha fatto l'adattamento di Dark Souls 3 non si è curato troppo del fatto che spagnolo e italiano siano due lingue differenti. Non è mai stato un problema per chi ha gestito l'adattamento di questo gioco. Qui dove eravamo? Perché lì c'è un gigapazzo? Non c'era un nemico grosso, in teoria, lì. Comunque, devo fare prima una roba. Devo fare prima una roba. Saliamo su. Allora, qui... Questo non l'ha randomizzato, vabbè. Titanite pazza. Boom! Esame della prostata fatto. Sta bene. Oh! Questa ci serviva tantissimo, raga. Tantissimo. Cioè, abbiamo le fiasche a più uno. Nox, quando liberi la mia famiglia, per ora, Gertac non è nei miei progetti. Quindi ti devo chiedere di portare pazienza, di non continuare a farmi questa domanda, perché mi metti anche un po' in imbarazzo, a un certo punto. Quindi ti chiedo di pazientare. Quando sarà il momento, li libererò. Tra l'altro, come sai, abbiamo già degli accordi, da un punto di vista monetario. Quindi, sai quello che devi fare. Allora. Altare del vincolo. Finalmente. Finalmente. Bruciamo. Scheggia dosso di... Non morto. Un milione di cornetti per famiglia liberata. Sì, costa più del VIP. Costa più del VIP. Vediamo se riusciamo a fare un livellino che non sarebbe male. Tutto sommato. Stava cadendo! Ma sì, ho visto, ho visto che il Mori mi ha duettato e mi ha fatto i complimenti. Sì, sì, sì. Ho visto, ho visto. A qualche punto in più a forza ci starebbe anche. Però alla fine dei danni non si è ammessi così male. Vabbè, dai, facciamo sto 25 a forza e non se ne parla più. E non se ne parla più. Ma perché la guardiana non ha un drip cambiato, in effetti? Perché no? Perché le texture diventano sempre peggiori man mano che mi avvicino? Guarda Mauro dietro. Guardate il ciolone, aspetta, di Mauro. Volevo farvi questa bella ripresa. No? Primo piano di guardiana, ma... Ciolone sullo sfondo. Eh? È un NPC chiave forse. Ma può esserci. In effetti, anche Andre e lei non hanno il drip randomizzato. Però Andre e lei non hanno un drip. Cioè non esiste il loro set nel gioco. Mentre quello della guardiana in teoria esiste. Ci dai delle baraci ancora, amore? No. E niente, ci attacchiamo al cazzo. Ah, beh, cazzo. Armatura di Lorian? Eh, però non mi tolgo la placenta. No, no. No, no. Andiamo. Smash per Maurone, è chiaro. Es regular. Chiesa di Iorshka. Si va. E neanche Andre ha cambiato il drip, infatti. Ma Andre non ha un vero drip, no? È quello che dicevo. Non ha un vero drip. Cioè non esiste il suo set, capito? Quindi ci sta che non sia legato a un set reale. Mentre in teoria quello della guardiana dovrebbe esistere, se non sbaglio. Però magari mi sbaglio. No, no, non mi sbaglio. Esiste. Cazzo dico. Ciao, Fujimi. Come va? Bene, bene. Stiamo randomaurizzando. Bella. Questa di S2. Guardalo. Guarda il piedino. Ma guarda quanta vita ha. Ma come... Io come posso anche solo pensare di... Ma... Ho visto... Ma quanti cazzo di cosi di Milwood mi ha messo questo seed? È un coso di Milwood? Ah no, no. È un uomo drago. Cioè, un uomo drago. Dai, avete capito, ragazzi. Forza. Non ci formalizziamo. Ora, al posto degli Salli c'è un altro Salli. Possibile. Allora, allora. Non siamo stati fortunatissimi. Uomo ciola, esatto. Non siamo stati fortunatissimi con il seed qui a Iritil. Devo dire che è un po' una rollercoaster questa randomizer. Ci sono zone dove c'è andata bene. Qui c'è un muro. Si mette male. Iaros, grazie per il terzo mese. Bello, bentornato. No, no. Ma guarda che roba. Non curante. Sprezzante. Oppa, ho fatto più veloce io, eh. Tu hai la ciolla più lunga, ma... Mauro la usa meglio. Aia! No! Le assunture degli ultimi boss trovati? Certo. Allora. Andando all'indietro. L'ultimo boss abbiamo fatto solo Fcinder. Botta di culo proprio, dirai, no? Al posto di Walnir. Fase 1 e fase 2 di solo Fcinder, tra l'altro. Ci ha scopati... Non poco. Ti devo dire? Non poco. Se l'hai persa, dovrebbe uscire tra qualche giorno su YouTube. Prima di Walnir chi c'era? Aiutatemi anche voi, chat. Aiutatemi anche voi. Ti ci ha boncherato ora il granchio. Prima di Walnir chi cazzo c'era? Sai che non mi ricordo? Eh, vabbè, dai, ho capito. Ho capito. Lasciam perdere. No, no, no. Sai che ti dico? Sti cazzi. I guardiani non guardiani. Esatto. Al posto dei guardiani... Chi c'è uscito al posto dei guardiani? Sai che già non mi ricordo più. Eh, ma che cazzo? Al posto dei guardiani? Chi abbiamo beccato? Si è fermato i trai di Gael. Si, Gael era al posto della danzatrice, ma non l'abbiamo ancora fatto, Gael. Abbiamo beccato Sully al posto di Vort. Ciao, Marty. Ah, l'armatura, è vero. Abbiamo beccato la Dragon Slayer. Dragon Slayer Armor al posto dei guardiani. Abbastanza Eds, devo dire. Mi sa che l'abbiamo forse traiata, quella. Ops. Mi scusi. Addirittura, più due. Aspetta, fammi vedere. Mi sa che io ho ancora gli anelli sbagliati. No, ho gli anelli giusti, ok. Sì, però c'è, così è una persecuzione, capisci? Non è neanche più un discorso di... Quella non ci serve a niente, non so perché la sto inseguendo. Scusa, eh. Prendo l'elmo di Lorian che si trova qui, for some reason. Scaglia di Sburos. Non ti permettere mai più di nominare mia madre. Armatura della Dancer. Scusate. Sai qual è anche il problema grosso qui? C'è un problema proprio grande. Io non mi ricordo dove devo andare. Questo è forse il problema più grande. Il problema più grande, credo, sia questo. Ok. Al posto di Vort c'era sì, Soul of Cinder. Sì, sì. Che dire se non GG, esatto. Esci dal falò tutto dritto. Ok. O intendevate dall'altro lato? Tu, Giacomo, dicevi uscire dall'altro lato. Proviamo dito Mabuco? Ok. Mi riprenderei se non vi offendete. Se non vi dispiace, mi riprenderei queste. Che sono mie. Non per qualcosa, che sono mie. Brother, benvenuto. No, no. Non è una Blinder, è una Randomizer. Solo che non mi ricordo dove dovevo andare adesso. Quanto dura più o meno Blabbo? Dipende molto da come giochi. Comunque direi che è decisamente tra i più corti dei giochi From Software. Quindi meno di DS1 assolutamente meno di DS2 meno di DS3 non ti do un numero di ore perché dipende proprio da come giochi tu. Cioè può durarti 20 ore e potrebbe durare 60. Però regolati sul fatto che comunque è un gioco più corto di DS1 un gioco molto più corto di DS2 è un gioco infinitamente più corto di Elden Ring. Sì, il granchio gigante è un po' un dito in culo. Un pochino, sì. 60, 70. Questa è una cheat di spessore. Bravo, Zitrones. 30, 40 ore. Sì, diciamo che quello può essere un tempo standard per una run standard. Però sai, poi anche lì sta molto a come giochi, no? Sta molto a come giochi. Cioè la mia prima run di Bloodborne comunque è durata 60 ore. Però se io ti dicessi Arnaldo e dura 60 ore ti direi una minchiata perché in realtà un giocatore medio non ci sta a 60 ore. Allora quindi sai per finire e no, appunto dipende come giochi Arnaldo e quello Fujimi col terzo mese sono tre sempre un piacere poterti supportare. Grazie Fujimi. Il piacere è mio ovviamente ti ringrazio infinitamente. Qui io farei una corsetta sapete che vi dico jogging. Non ti permettere mai più. Qui ci dovrebbero essere un po' di oggettini. Mamma mia che combo! Ah vabbè lui è rotto quindi va bene. Qua c'è il calabrone. Già morto? Ok. Esamino della prostata Ah no no e mi ha messo i vermi e mi ha messo i vermi però vedi vedi che porca miseria Guarda poi la quantità di vita Allora ma se io sto fermo in teoria si levano dopo un po' si levano Boh In teoria si dovrebbe levare a un certo punto Guarda i vermi che schifo Va che schifo Beh non ce l'ho la torcia Gigi purtroppo non l'abbiamo beccata Lo so che la torcia toglie l'effetto ma siamo in una randomizer non ho mai trovato una torcia No se rotoli è peggio Se rotoli è peggio Ah i fiori è vero Non ce li ho Non ce li ho Dai porca puttana Stefano Ciao Ci sono video su youtube di questa random di questa random Assolutamente sì Mi piacerebbe seguirla ma tempo ne ho molto poco Sono già usciti i primi due episodi di questa randomizer su youtube li trovi Noxil tv su youtube se vi è in chat su twitch c'è anche il il comando che puoi fare e usciranno anche tutti gli altri escono senza tagli ah ok finito escono senza tagli e quindi te li puoi recuperare tranquillamente on demand assolutamente sì qua da qualche parte se non ricordo male c'era un muro no è dopo oh cazzo scaglia e pezzo non c'era un muro invisibile qua da qualche parte era il signor testa di sbrugna sì il cunicolo piccolo come ti sembra randomizer difficile allora devo dire decisamente più difficile rispetto a una run normale quello sì ma molto gestibile dai alla fine il boss da cui abbiamo preso più cazzo è stato solo off cinder che ci è uscito al posto di walnir quindi sai facendolo a livello boh 40 è stato un po' impegnativo devo dire la verità però per il resto alla fine sta andando abbastanza chill abbastanza chill ovviamente devi conoscere un minimo il gioco devi conoscere un minimo i boss se no vabbè lì il cazzo se no lo prendi decisamente allora vediamo se riusciamo a prendere quella roba lì basta avere fortuna e pregare esatto se ti esce il seed fortunato può essere paradossalmente anche più facile di una run normale però deve uscire proprio il seed perfetto io devo dire non stiamo avendo un seed fortunatissimo per quanto riguarda i boss e le sostituzioni ma abbiamo avuto un seed abbastanza fortunato con gli oggetti infatti abbiamo una build potenzialmente fortissima ora noi perché ci fa ridere tenere Mauro così tronfio però di base abbiamo degli equipaggiamenti della madonna volendo che non stiamo usando e l'arma che stiamo usando è molto forte molto forte skip delle prigioni come si fa lo skip delle prigioni sapete che non l'ho mai fatto Gael dalla dancer è fortuna ma relativamente allora da un certo punto di vista ti posso anche dire sì perché ovviamente è molto più forte della dancer ma da un certo punto di vista almeno non l'abbiamo beccato al posto di un boss molto prima braciolina qui dovrebbe esserci un falò no? l'arena fa tanto certo è vero quell'arena lì è un po' sfortunata per lui sì paradossalmente l'arena di Walnir è stata abbastanza fortunata per il soul of cinder tuttavia il soul of cinder è veramente troppo sgravo per farlo a livello 40 anche se ribilanciato infatti ci ha picchiati quando dico troppo sgravo fa sempre il disclaimer ovviamente si può fare si può fare anche a livello 1 è ovvio però insomma inizia a essere difficile 8 eh stai venendo e poi ti sei spaventato hai visto maurone e hai capito che stai facendo una cazzata eh l'hai capito caro il mio abitante del borgo dei non morti di Dark Souls 1 cazzo oh shit quanta vita va bene hai il take nox hai visto le mie 20 stream consecutive ah accidenti bravo bravissimo bravissimo non avevo visto la notifica ma ragazzi non è le mosinate le sub in chat se ci sono le sub giftate è bene ma non chiedete alla gente di giftarvi le sub souls più difficile forse bloodborne perché è quello dove hai meno flessibilità con le build e quindi o impari a giocare in un certo modo o non non impari a giocare cioè non riesci a giocarlo però alla fine dei conti nessun souls è particolarmente difficile sono giochi punitivi ma non estremamente difficili non ho visto le 70 minchia 70 di Giacomo porca puttana continui a mangiare in testa Ginto come è giusto che sia come è giusto che sia 70 tu c'hai la streak più grossa bravissimo nottone grazie ti ringrazio ti ringrazio così il nostro caro Arnaldo 1-1-1-1 finalmente alla sub e non è più costretto a elemosinare souls con meno fps souls con meno fps sempre decisamente Bloodborne ma non per questo non il miglior souls perché continua a essere il migliore nonostante i pochi fps pensate cosa potrebbe fare con più fps ma non si azzarda perché metterebbe troppo all'oscuro tutti gli altri vabbè una bevutina di zuppa me la faccio grazie Zitrones grave errore devo dire devo concordare con nottone hai fatto un grave errore Zitrones ma ovviamente ti ringrazio infinitamente a che punto sono siamo a Iritil che è diciamo verso il mid late game ah che bellezza ieri ho finito una run di Dark Souls 1 perché mi sono comprato Dark Souls 1 su Steam su PC non ce l'avevo perché voglio provare qualche mod anche lì ho detto prima di fare qualcosa con le mod io ho bisogno di farmi una bella run di Dark Souls 1 ma senza streamare senza registrare così solo giocare a Dark Souls 1 quanto cazzo è bello Dark Souls 1 quanto minchia è bello che gioco è è incredibile mi ha fatto mi fa venire veramente la pelle d'oca Dark Souls 1 è bellissimo e quindi entrando qua ovviamente il riferimento è chiaro non è il miglior gioco mai creato Dark Souls 1 non lo so no forse non è il miglior gioco mai creato ma è comunque un gioco veramente incredibile anche per me è il migliore sì miglior miglior della trilogia Souls è il migliore preferisco comunque Bloodborne vabbè Great Chess to Head come si saliva sopra sai che non mi ricordo più non da qui follia benvenuto eccola qua la Bone Will parlavamo di Dark Souls 1 alla barda dall'altra parte dall'altra parte inteso uscendo di qua ah di qua io farò l'alternativa e dico che il mio Souls preferito rimane di S3 ci sta in realtà Kine allora ti dico forse proprio da giocare come esperienza di gameplay Dark Souls 3 è il migliore perché comunque ha delle quality of life in più rispetto a DS1 DS2 teniamolo un attimo fuori dal quadro anche se a me piace va tenuto un attimo fuori dal quadro quindi ti dico è un unpopular opinion da un certo punto di vista ma neanche così unpopular cioè la capisco e secondo me è abbastanza condivisa però Dark Souls 1 c'è proprio quella magia lì c'è proprio quella magia lì sai cosa stavo pensando avete presente un po' il mood ci sono tanti video che escono ora su tiktok in giro dei liminal spaces quei luoghi tipo che ricordano la tua infanzia ricordano cose che non hai mai vissuto quella sensazione un po' strana ecco Dark Souls 1 c'ha quella roba lì un po' non so perché non so perché ma c'ha quella roba lì potentissimo è quello del calabrese sì 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 Zitrones 1201 bit grazie grazie cucciolo grazie mille pezzo di titanite ok niente che ci serva pietra prismatica nox qual è il piatto preferito pugliese però di Mauro patata, risa e coz questi chi li ha buttati? no vedi che sono un coglionazzo proprio vabbè Firelink DS1 è casa sì vero nome ma ti devo dire che è più casa di tutti però Magiula Magiula è incredibile ho raggiunto il gol attenzione ah grazie ragazzi abbiamo raggiunto il gol va aggiornato va aggiornato se no ve lo spamma di continuo allora grazie ragazzi 130 vai aiutami a prendere un microfono mi dice di mettere no microfono ce l'abbiamo quindi metto solo una faccina così che vuol dire butta i tuoi soldi vai avvio obiettivo andata facessero il remake di DS1 sarebbe top cambiando un po' di meccanica anche ti dico da una parte sì nel senso che quello sarebbe un instacop per me è proprio day one quello siccome esce proprio lo compro a mezzanotte avvio la live lo giochiamo e lo finiamo però da un altro punto di vista ti dico comunque non abbandonerei la versione originale che poi in realtà non è neanche la versione originale perché quella che c'è su Steam è la remastered ma comunque c'è ancora quel mood lì datato ecco non so come dire c'è un remake tipo alla blue point come quello di Demon's Souls sarebbe bellissimo ma la versione originale resterebbe ancora comunque nel cuore sì le boss fight DS1 sono spesso mediocre sono d'accordo sono d'accordo no no ma assolutamente ma infatti è più una roba nell'insieme cioè è l'insieme di quello che fa quel gioco non è un singolo aspetto forse il singolo aspetto che effettivamente ancora splende sugli altri è il level design e l'interconnessione ragazzi lì è insuperabile lì è insuperabile veramente DS1 remake serve solo per lo style ma in realtà un po' tutta la parte dopo Anor Londo è è è è cioè lo style elite è quella che vi ricordate meglio ma fidatevi che quando vi fate una run poi vi rendete conto che anche fare tipo la tomba dei giganti raga è cioè mettiamola così si poteva gestire un po' meglio tomba tomba dei giganti pic esatto su tiktok ci dicono il mio souls preferito è DS1 anche per me invece il più difficile per me è DS2 dice allora ti dico sì probabilmente è il souls in cui sono morto di più ma la difficoltà di DS2 è profondamente diversa rispetto alla difficoltà di DS1 e DS3 perché è molto più artificiale dal mio punto di vista è proprio un po' diverso quindi sì forse anche per me è il souls con cui sono schiattato di più ma non penso sia il più difficile in termini proprio di difficoltà souls è solo il più stronzo è difficile solo per le hitbox eh esatto diciamo le hitbox giocano un ruolo ma anche altri fattori come l'enemy placement alcune scelte come quelle relative all'adattabilità insomma c'è un po' di robina in DS2 che si discosta un po' dall'idea di difficoltà dei souls originale prego ahia ma come ti permetti ma come cazzo ti permetti boom dare uno sguardo a wukong quando uscirà da ghost sembra un souls niente male ma in genere diciamo questi titoli li provo cerco di provarli sempre quindi sì penso che gli darò un'occhiata ah allora a te ti faccio più che altro un favore ad ammazzarti per come sei combinato oh mi ha dato l'emoticon di hype train ve la do in realtà non ho ancora capito bene questa cosa dell'emoticon degli hype train devo essere sincero ragazzi però io quando c'è ve la mando mauro misericordioso esatto ma iniziamo a farla bet che siamo vicini al boss che ne pensate è il momento di bettare secondo me sì pronostichino vai per il first try ok facciamo 5 minuti che ci facciamo un giretto e poi andiamo via andata sono randomizzate anche le abilità delle armi non ricordavo che la spada oscura avesse quella no no le abilità non sono randomizzate ha questa abilità qui la spada oscura non scammare il backflip oh attenzione 1 2 3 fatto è ora di scommettere esatto è ora di ballare la fresca come si dice in gergo thomas benvenuto allora livellino si fa questo backflip era durissimo sì sono atterrato sul ciolone non mi appare vai con un bel refresh che tappare it's time to dance the fresh esatto raibats esattamente abbiamo detto tiriamo un po' su forza guarda maurone mamma mia volevo darle un calcio in realtà ho sbagliato sincero volevo solo darle un calcio volevo solo darle un calcio non non intendevo fare questo sinceramente però vabbè ho sbagliato raga ma mo dov'è non dovrebbe rinascere non dovrebbe rinascere mo non c'è un modo per riportarla in vita no non esiste si è buggata run level knock iniziata no non penso no non è morta non è vero la odret non è morta per sempre mi piace che comunque io ho cercato di giustificare il mio atto di violenza verso di lei con un altro atto di violenza cioè io l'ho uccisa ma non è che ho detto tipo ho sbagliato a premere il tasto ho detto no no io volevo darle un calcio che comunque è un altro atto violento però va bene mi dispiace non lo sapevi non posso morire guarda meglio così ti posso dire meglio così siamo a posto siamo a posto va bene via vi dirò che per la boss fight forse è anche il caso che io mi tolga la felpa sapete che in realtà non è la stessa guarda è una di ricambio ok ci sta ci sta questo lo accetto allora devo togliere la felpa e andiamo come state bettando comunque ah vi vedo molti sul regolare non sappiamo neanche chi c'è raga non perché siete così convinti perché sapete che sono il pro playerito ci starebbe anche come giustificazione ci starebbe anche perché no via io non posso votare fai un refresh Thomas e vedrai che puoi votare anche tu allora di qua ora c'è Frida impazzisco spero di no raga mi auguro vivamente di no vi devo dire la verità non so se potrei reggerla adesso Frida lui lo lascerei in pace non per qualcosa eh però ma che cazzo ok Gabriele benvenuto qui c'erano oggetti per caso sembrerebbe di no Frida Kahlo capo di Bologna esatto allora ci possono essere le seconde fasi dei boss come boss fight allora non ci è mai successo ma credo di sì in realtà cioè le seconde fasi che sono considerate dal gioco come effettivamente un altro boss sì tipo la seconda fase del soul of cinder no perché quando affronti il soul of cinder in fase 1 semplicemente si rifull minchia si rifulla la vita e va in fase 2 infatti prima abbiamo beccato il soul of cinder e effettivamente abbiamo dovuto fare entrambe le fasi però tipo il re senza nome secondo me può uscire senza il colo il piccione delle tempeste state discutendo su chi sia più forte tra Mauro e Pier Giorgio raga è un discorso inutile perché nel caso di un loro scontro ancora prima di poter sapere l'esito il mondo sarebbe già esploso o meglio imploso su se stesso e quindi è un discorso proprio che non ha senso fare ok qui cosa avevamo ah giusto di quale sarà la boss fight allora dobbiamo fare prima un'altra roba bello lo scudo del persecutore quindi forse avrai tre Gael ma Gael si interrompe ma non è non si ricarica la vita quindi no è una sola boss fight in teoria credo eh non lo so sapete tu non ti sa neanche a dove minchia sei arrivato vabbè Gael è già uscito sì sì no però loro dicono visto che Gael ha tre fasi può uscirti tre volte ma in realtà no perché le fasi di Gael non sono credo considerate dal gioco come altri boss però oddio non è che ne sono sicurissimo spero esatto più che credo spero non possono ripetersi i boss delle boss fight no cioè un boss che è già uscito non può riuscire un'altra volta perché ogni ID va a sostituire un altro ID presente quindi non può farlo più volte allora dobbiamo fare un po' di roba da andare di qua guardalo il pazzo senza testa carmeluccio Pier Giorgio è nostalgia nonostante sia recente eh vabbè sì un po' di nostalgia per Pier Giorgio c'è ma vi ripeto potrebbe non essere mai esistito potrebbe essere una grande allucinazione collettiva la betta è scomparsa perché è finita finito il tempo per bettare tu ti devi dare una calmata subito anzi prima di subito scusi signor cavaliere pazzo apriamo la porta con molta calma questa è una delle abilità chiave di Mauro che è assolutamente inattaccabile mentre sta facendo altro cioè ha assolutamente il potere di farsi i cazzi suoi non gli puoi rompere i coglioni sta aprendo la porta non lo colpisci non lo puoi colpire capito si fa i cazzi suoi è troppo potente è superiore a te è superiore ai tuoi cagamenti di cazzo capito non gli interessa stava aprendo la porta non gli rompe i coglioni no questa è una proprio delle skills di Mauro non del personaggio di DS2 esatto no i personaggi di DS2 non hanno questa skills minchia scheggia di Estus questa è buona come il pane raga vado a ciucciarmela subito buona come il pane livellino why not ti posso dire why not vai non si sa ancora chi è il boss v no non siamo ancora entrati quale pane però beh dipende panino al burro con la nutella lasciami in pace godimento si forse volevi dire buono come il pene no non così buono non così tanto eh no sbagliato ok picchiala no 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 non c'ho paura adesso chiesa di Yorkshire qualcuno sa perché Prime non mi fa fare la sub o magari non ti ricordi hai già fatto un Prime a qualcun altro il sacrilegio tra l'altro me lo leggo al dito per sempre oppure forse da telefono a volte non va Nox Mauro farei DLC non lo so vediamo magari si 69 vicino alla scritta chat credo sia il numero degli spec in questo momento scopriamo chi c'è mezza lu- ah ma paolone che si dice non stare in piedi sulle sedie perché ho trovato un anello del lupo da dove è uscito in teoria lui dovrebbe schiattare comunque da solo però nel dubbio ok è uno scostumato paolone si gli è caduto dalle tasche esatto eccolo lì no è l'uomo di sbrugna è il famoso uomo di sbrugna attenzione stavamo sottovalutando questo scontro non sapevamo che dall'altra parte c'era l'uomo di sbrugna ma poi perché non perde vita lo sbrugnatore smettila 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 ok non ti permettere sai ah ok non perde vita perché è lui ah ti volevi far aiutare dall'uomo di sbrugna hai detto perché no chiamerò lo sbrugnatore pensando che Mauro non fosse all'altezza pensavi che Mauro non fosse all'altezza grave errore grave errore ci sta scopando raga non so se ve lo posso dire ma ci sta oggettivamente scopando quindi madonna quanto spammi cazzo no mi ha missato il backstep guarda 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 che scambio di colpi mancati vieni qua haha non te l'aspettavi questo eh anche lui ha lo stesso potere di Mauro quello di non farsi disturbare mentre fa altro si stava alzando e non l'abbiamo potuto colpire un altro sbrugnatore no 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 non sottovalutiamo non sottovalutiamo gli sbrugnatori ragazzi ma 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 mi ha tagliato i capelli raga ti dai ti dai ti dai ti dai ti dai una cazzo di calmata c'ho paura adesso eh vabbè che cazzo però madonna quanto spammate maledetti mamma mia tagliato i capelli veramente veramente cazzo ci hanno sbrugnati ci hanno sbrugnati raga cazzo vi devo dire siamo stati sbrugnallati sbrugnallati sì cassa mi devo dar la cassa mi devo dar la cassa che vi devo dire un minuto di bet torniamo lì speriamo di sbrugnare noi stavolta persi tutti i soldi ottimo laudret guarda bene l'animazione dei fulmini forma due palle un membro prima di fulminare credo sia voluto shilok grazie grazie per il prime bello benvenuto allora ci proviamo di s2 di s1 vabbè di s1 perché lo preferisco anche al 3 proprio allora ci dobbiamo andare decisi non ci facciamo sbrugnallare mi raccomando cara paolone scendi da lì scendi paolone aia nottone prova il colpaccio quanto ha bettato scusate ovviamente nottone betta sempre sul no quella è la sua strategia eh che cazzo lascialo stare lui poverino che tanto crepe ho capito ma ci fa perdere tempo il paolone lo sbrugnatore no comunque lo sbrugnatore è fortissimo raga cioè è incredibile la potenza dello sbrugnatore è inarrestabile Gianni con i 6 mesi grazie Gianni bentornato ah sbrugnatore sbrugnato e ora tocca a te ora tocca a te caro il mio figlio di Bucchina come dicono in Valle d'Aosta aia no 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 dai sei un home e merda guarda che roba mi ha ucciso mi ha ucciso mi ha ucciso ucciso così ti perri a due mani sì ti perri a due mani c'è incredibile ton ottone gustateli tutti vai tutti i tuoi tutti i tuoi maledetto Mauro Lanciere di Catania sì era il suo lavoro prima potete mettare comunque ho fatto un'altra forse era meglio saldi no vabbè direi di no e vabbè cazzo però c'è datevi anche una regolata eh paolone son tornato son qua ciccio aia sempre niente io sono allergico a schivare i colpi del paolone dai bravo mi è piaciuta la tua mossa ottimo lavoro ma adesso veramente ti rovino te lo dico te lo dico ti rovino mi stai già ammazzando raga c'è guarda guarda che spammone sei un miserabile cioè è questo che sei capito no vabbè però allora un conto è che mi perri e va bene ma cazzo che mi fai riposte senza neanche perriarmi mi sembra un po' eccessivo se posso se posso permettermi si vai spacca tutti i lampadari no tanto che cazzo te ne frega mica casa tua questa no e vabbè ok va bene niente cioè non si può attaccare raga non si può attaccare non so cosa dirvi va bene boss più forte del gioco è diventato e siamo morti capito cioè il problema ma lui tira su l'altro sbrugnatore e siamo morti giusto via altra bet ma non pensavo che mi avrebbe creato tutti sti sti problemi lui cioè abbiamo battuto letteralmente il boss finale l'altra volta e adesso così il lanciere della merda il lanciatore di merda ci sta sgorbando vabbè ti avevo trastato eh ma non so che dirti l'equipaggiamento è l'equipaggiamento buono dici potremmo anche noi considerare di metterci un filo meglio perché siamo comunque un po' equipaggiati un po' a minchia e a dire la verità però perriare con uno scudino non lo so sai che non me la fido tanto non sono troppo forte coi perri in ds3 vi nove mesi finalmente ho partorito nox nove mesi di amore grande vi grazie mille come lo chiamiamo in pargolo che nome gli diamo decidi te no 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 non me la sento lo devi dire tu allora signor mezza minchia no prima c'è il signor sbrugnelli guarda lo spammatore seriale madonna de dio no sono sono incazzato cosa fai cosa cazzo ti anche meno di così dai c'è adesso va bene tutto però ma tu capisci che cazzo guarda con l'altro figlio della merda che ci ma vedi ma perché devi far danno anche quando non c'è il cazzo di cosa vabbè ovviamente il backstab non entra perché sai ci mancherebbe no no non ti attacco quando c'è lo scudo così perché non me la non me la fide hai capito non ti attacco perché so già come finisce guarda guarda che ha chiamato l'altro suo amico ovviamente non ti ho preso solo dio sa perché allora quanto mi sta facendo incazzare ma come fai a essere vivo eh ma non posso mai vincere con sta vita qua raga questo è uno spammone incredibile cioè guarda guarda che cazzo sta facendo dai fallo fallo e basta braccio è vero mi ero dimenticato che avevamo ancora bracci bravo nottono dai ma non è no no raga c'è no 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 non ha senso non ha senso non ha senso sta roba nox perché non metti di s in spagnolo perché tanto è già parzialmente in spagnolo come ha fatto è bella domanda mi ha rotto la postura in qualche modo che mod è Simone è una randomizer se vieni su twitch c'è il comando fai il punto esclamativo mod ti esce il link per scaricarla dove ci sono anche tutte le istruzioni su come installarla come generare il seed eccetera eccetera tempo di quinto pantheon più facile del lanciare della chiesa allora mo mo ci vado concentrato dai non guardo neanche la chat gioco gioco normale dai cioè normale gioco concentrato tempo di esplodere bari esatto vai ti stiamo dando molta fiducia ed è per questo che hai votato no Kevin benvenuto dai paolone il momento aia allora è partita male la run va bene sarò sincero sta partendo male sta partendo male ci sta no può può solo migliorare da qui può solo migliorare giusto mi sbaglio allora signor sbrugnelli complimenti bravo eh com'è quando lo faccio io figlio di puttana com'è ti piace anche quando lo faccio io vabbè vabbè ok vabbè vabbè raga mi sciotta con due colpi va bene gli è piaciuto forse gli è piaciuto vai stiamo mettendo più try per il lanciere della chiesa che per il solo cinder va bene ok la braccia è accesa no non me la voglio usare subito tocca fare prigione no aspetta aspetta mmm ah questo è il pezzo di equipment superiore migliore che abbiamo ok forse 94 è un po' troppo eccolo pronti oh shit Mauro si sta vestendo normalmente si oddio diciamo questo è normalmente comunque questo è normalmente però tuttavia anello di Avel ah è vero non ce l'abbiamo no ma non ce l'abbiamo ah sì sì ce l'abbiamo ce l'abbiamo e andiamo allora di vai vai ah nottone ha bettato sul sì sei un pezzo di merda lurido paolone vai è il tuo momento ora sarebbe da perderla solo per non far vincere la betta nottone vi dico la verità però già che abbiamo cambiato fit oddio se non sto attento la perdiamo già contro paolo a sto giro però vabbè vai ginto che mi è entrato oggi si è entrato per farsi la streak maledetto mark grazie per il ride bello grazie mille no angula mamma ma guarda guarda che danni che fa cioè è una roba è una roba imbarazzante raga imbarazzante cioè niente questa è l'unica cosa che posso fare perché se lo attacco normalmente mi perria vai ha fatto il cazzo palle no perria questo coglione vieni vieni perria questo imbecille guarda guarda che è arrivato lo sbrugnatore pure mamma mia è illegale raga è illegale non voglio andare non voglio andare dallo sbrugnatore perché so che mi fa solo perdere vita vai genichiro guarda qua guarda che roba è locura è locura è locura mamma mia no no allora tu la devi la devi smettere io veramente ti faccio del male fisico non nel gioco non nel gioco è ancora vivo è ancora vi non nel gioco non nel gioco No, eh, raga, è allucinante Cioè, c'è un back Filippo, attenzione Un, due, tre Fatto La spada in oscuro fa schifo a due mani Lo sto notando Il suo vantaggio è il range dello swing a una mano Proviamola a una mano Proviamo a una mano, va Con un bello scudo Tanto vi faccio un'altra bella bet Via, bettate pure Spada di astora riusciamo a potenziarcela? Potremmo Riuscire a potenziarla Nox tra un mese fa un anno Invecchi facilmente Eh sì, il 26 di aprile Esattamente un mese Il 26 di aprile È l'anniversario Non del partner Ma della mia prima stream Di sempre Oddio Avevo fatto in realtà una stream di prova a marzo Tipo di un minuto Per vedere se funzionava OBS Però la mia prima vera stream È del 26 aprile Questo ti sbordona secondo me Io il 24 compio 26 anni Ah Cazzo Quindi vicinissimo Su cosa? Erano le data battle? No no, era il primo episodio di Kingdom Hearts 3 level 1 Il primo episodio della level 1 Cioè in realtà la stream si è aperta sulle data battle Perché non c'era uno starting soon Cioè ho avviato la stream E ero lì, giocavo E poi quando è entrata un po' di gente Che eravamo una ventina Trentina Siamo andati A farla level 1 Questa tra l'altro E infatti c'è pure la weapon art giusta Come dice giustamente Palle Devo Aspetta Anima di covaliere Scoreggiato Allora Perfetto cazzo Clean Andiamo Potenza è quella di Lotri Che fa più danno critico E ormai è un po' tardi Comunque forte pure questa Ah come peso però come siamo Ah pesa anche meno Davvero Questa 4 e 5 Ah E allora Why not Scala un po' su fortuna Cazzo Ah non ce l'ho neanche quella di Lotrik Tra l'altro no Scudino No ma non voglio fidarmi troppo dei Perry Perché non sono Cioè non ce li ho in DS3 i Perry Non li ho mai fatti Spada oscura una mano È un'opzione Però in realtà con questa Secondo me mi trovo ancora meglio Dai Paolone vieni Aia No Pensavo fossi morto Ok Già la vedo molto meglio Ti devo dire Scala S su fortuna Questa addirittura Dov'è il Sbrugnetto Qui Ma in realtà fa anche molti più danni Ok Sto R2 È lentissimo Però Eh no È molto più forte No questa roba è imperia Questa roba raga Penso che un umano Per perriarla Deve farlo frame perfect È allucinante Sto attacco qua È incredibile Come cazzo ha fatto Il problema è che ti staggara pure Sì no lo so che è perriabile Lo so che è perriabile Però dico Cazzo Cioè è proprio scriptato Per perriarti Sto stronzo Dai Dai Su Guardalo che sicura Madonna Che fastidio Ebbè a sto punto Mi curo anch'io no Vai Coglione Bastava far questo Bastava far questo Cioè Coglione io Non lui Bastava far sta roba qua Bastava far sta roba qua Fai schifo Boom DS fans When the boss Is actually hard Esatto Va bene First try Come sempre First try Ormai lo sapete Con me È sempre First try Dopo 4k Persi Dopo quasi tentativi Boh Almeno 7-8 Secondo me Non so se qualcuno Li ha contati Comunque Dobbiamo fare le prigioni Prima dobbiamo livellare Comunque starma è buona Starma mi piace Più forte Della spada oscura Ci vuole un primo piano di Mauro A voglia Tu dici dov'è Mauro Non te l'aspetti Invece Boom Ecco il Maurone Dove sarà Boom È il Maurone Zitta È il gringo È il gringo loco 25 Io un po' più di vita La vorrei adesso Secondo me Tipo arriviamo a 40 vita Siamo abbastanza safe Per tutta la run In my opinion Lo skip delle prigioni Non so come si fa Volete insegnarmi lo skip delle prigioni Però no In realtà In realtà vi posso dire Non facciamo lo skip delle prigioni Perché non ha troppo senso Fare lo skip delle prigioni Perché Alla fine noi vogliamo anche vedere Gli oggetti randomizzati I nemici randomizzati Quindi È vero che sono brutte Però Mauro sembra mio nonno Da giovane Lo è Nox non sa leggere Ma sa lo spagnolo Esatto Esatto Anche questo rientra Nella lore Del Noxillone Allora Vediamo chi ci aspetta qui Signor Scheletrotto Ah tra l'altro Dovrebbe essere tornato Greyrat Mi viene in mente Vedendo questi Topi di fogna Del cazzo Dovrebbe essere tornato Greyrat Con dei nuovi oggetti Perché abbiamo battuto Dei nuovi boss Quindi Poi andiamo a vedere Che cosa È il perro No Ha Alcuni non si randomizzano Per qualche ragione No lo so Fan cagare le prigioni Però raga È così Vanno fatte Ah qui Mochi Fa l'invasione Cazzo Posso dire Che me ne strasbatto Il cazzo Dell'invasore Siamo stati invati Da DS2 Raga Ovviamente Non posso sedermi Prima o poi Morirà da solo Anima di sfintere Guarda Sta lì Guarda Guarda Che va tipo Scusa eh Adesso non per dire Stavo parlando Guarda che va tipo A un frame Marseco No No Ditemi che l'avete visto Vi prego Avete visto come si muoveva Tipo un album fotografico Va bene Alba Chi ti ha dato Quella Quella Balestra Gigantesca Brava Bella mossa Più bella La mia Però Comunque un saluto Dalla provincia Di Foggia Sempre Sempre Lo ricambio Allora Nelle prigioni Qua che minchia Di strada Dovevo fare Lui guarda Il muro Questa è la sua Attività Anche lui Bello Sto R2 Perché ti dà Proprio lo schiaffo Cioè da storia Non scherzano Guarda qua Bella la cosa qua Sulla sede Non l'avevo mai vista Sono caccato addosso Va bene La corona Il tanga Dite di tornare All'outfit originale Ma sì Dov'è la corona Che non vedo Che c'ho sopra La chat di tiktok Qua Tra l'altro Abbiamo due per i zona Se mai che ti cagli addosso Lo devi cambiare Scusi Scusi Mi scusi Pesa un botto Vabbè Ho clippato l'invasore Con due frame al secondo Grazie Bello Ah Tutto regolare qui No 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 Avvelenamento Va bene Mancano le falci Però ce ne abbiamo In realtà Sì Questo è chiuso Aia Dai Su 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 Mettila allora No 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 Fanculo le falci Sono belle Ma non sono abbastanza forti Ecco avete visto Cosa è successo a lui Se volete uscire Comunque uscite Se no Ah ma lì c'è un oggetto Quindi mi sa che entro E vi uccido io Perfetto Ottimo 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 Ovviamente un albero Esatto In questo side È un po' così Per sapere Qual è stato il tuo livello massimo Su DS1 In che senso È il mio livello massimo Cioè che livello Ho raggiunto Nella mia prima run Intendi dire Perché onestamente Non mi ricordo Nox Nostradamus Che ho predetto Che sarebbe entrato E avrebbe ucciso tutti Esatto Non mi ricordo Comunque sono salito parecchio Perché ho esplorato Ho girato Ho fatto Quindi ho finito il gioco Che era a livello abbastanza alto Penso forse anche sopra il 100 Mentre tipo Ti posso dire invece Perché me lo ricordo La run che ho finito ieri Che ho giocato Da solo Perché l'ho ricomprato su PC Dicevo prima Ho finito il gioco Ho fatto una run All bosses Dove comunque ho esplorato Anche un po' Mi sono fatto un po' di giri Ho finito Mi sembra intorno a livello 70 70-75 Apro eh Non si sa mai È difficile il level up No Non è particolarmente Ostico il level up In DS1 Si livella abbastanza bene Se esplori Fai fuori anche i mob Livelli abbastanza bene Quando ammazzi quel bastardo di Orbe Lo ammazziamo Lo ammazziamo Ma giusto per capire A una mano Tu hai l'affondo Ma che bello sto moveset Ma è cagata sta spada Bella Come hai fatto in 46 ore A fare 486 livelli Scusa Hai usato qualche Qualche glitch No Sono morto Guarda 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 Perfetto Pipino ghiacciato Esatto Quante anime abbiamo perso Non me lo dite Non lo voglio sapere in realtà Stronzo Buona serata Yaros Grazie per essere passato L'anime che ti ha dato il boss No avevo livellato Avevo livellato con quelle Oh Esamino Lo sapete che Mauro l'urologo Eligio al lavoro Non si tira mai indietro Sì sì No lo so che DS1 È stra pieno di glitch Strani Tra l'altro A un certo punto Non so bene cosa è successo Che glitch è stato fatto Ma Io avevo Due fiaschette Estus C'è un altro giocatore Mi ha droppato una fiaschetta Estus Su Playstation E non su PC Quindi è proprio rottissimo No 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 Forse rollando si levano prima In effetti Ah Dannazione Che gioco è Carlo? Questo è Dark Souls 3 Ma È una randomizer Quindi abbiamo Randomizzato tutti gli oggetti Tranne gli oggetti chiave Tutti i nemici Tutti i boss Quando un giocatore Raviva una fiamma Nella tua zona Ti arriva una Estus No no Non hai capito Io avevo Due Estus Nell'inventario Cioè Io qui Avevo Una Estus E poi qui Un'altra Estus E entrambi avevano Un numero di oggetti Consumabili Indipendente Quindi io potevo Finirmi le prime Estus Poi equipaggiarmi le seconde E avere il doppio Avevo proprio due Estus In quel senso No no Comunque ci serve una torcia Raga Guarda che schifo Poi che fanno Perché mi ricordo E te mi hai fatto Pokémon randomizzati Su Youtube Anni fa No Forse qualcuno Con una voce simile Non ho praticamente Mai giocato a Pokémon Se non da bambino Su Game Boy E un po' Su Nintendo DS È uno di quei giochi Che devo recuperare Tanto meno randomizzati Quindi no no E poi in realtà Faccio contenuti Da relativamente poco Quindi Tanti anni fa È impossibile Vieni qua Ma c'ho paura Perché prima mi hanno ucciso qua Recupereremo Dicepino Vedremo Vedremo È da vedere No Vabbè Vabbè Grazie Grazie Dark Souls 2 Sì Va bene E rimane solo Mio fratello Anima di un demone Perché no Qui c'è quello Che sbuca fuori No Ah no Siamo ancora da Ma come cazzo Aspetta Allora mi son perso Scusate un attimo Ma dove picchia Devo andare Ciao Lenz Devo andare Dall'altro lato Conviene fare Il vincolo Di vacuità Intendi Il finale Del lord Dei vacui In realtà Non ha nessuna Controindicazione In game Se non L'estetica Che ti rende così Una merda Ovviamente Ha delle Importanti Implicazioni Di trama Se ti interessa La trama Però diciamo Proprio come Meccanica di gioco Non Non cambia nulla E sono solo Livelli gratis Ovviamente Interagisce Con delle quest Insomma Fa delle cose Però dico Proprio Di gioco Puro Di gameplay Cambia solo che Sei Ai livelli gratis Nient'altro Ci fa anche Diventare brutto Esatto Questa si apre Dall'altro lato Vero? Sì Da Errore mio Madonna Qua c'è un casino Comunque Ciao Xatire Buona serata Mauro Il più forte Di tutti Buona serata A te Sei sbrugnato Ma Ehi Chi non lo è Di questi tempi Vero? Pietra purificante Aspetta Cosa fa in DS3 La pietra purificante? Guardate che baffetto Guardate che baffetto Praticamente nulla No esatto Lo so Quando moriamo Torniamo vacui Qua abbiamo fatto tutto? Sì Mauro Sei proprio tu È proprio lui Guardate la chiappa Ma devo buttarmi di sotto? Sapete che non mi ricordo Proprio come Quest'area qua Irithil Le prigioni Così le ho proprio rimosse Qua ci sono stato Entra in una cella Quale? C'è un passaggio Ah dall'altro lato Ok Quindi C'è la con muro Sfondato sopra Quindi non questa Non questa No Deve essere forse Una di queste due Senti come Zampetta Mauro Eh sì Ah Oh Cappello da sbrugnatore Un fratello Allora Massima cautela Quanta cazzo di vita Hanno i mimichi in DS3 Hop Ehm Mmm Hehehe Ok Potrei aver commesso un errore Aiuto Puoi fare le bet Da aumentare il ginto Ottimo Pino Tra un po' Mi sa che possiamo fare la bet Per No aspettiamo ancora un attimo Dobbiamo fare ancora un bel pezzo Ah Buonasera Cazzo Cazzo Ma non abbiamo preso l'oggetto Eh Le lame dello sbrugnato Le lame dello sbrugnatore Gemma vacua Che schifo che fai cazzo Maledetto Frammento di puzzos Frammento grande Frammento grande di sbuzzos E siamo pronti Ah va che bellezza Guarda Questa roba qua Mi dà proprio i feels Questo mi ricorda tanto di S2 Monello del sanguinamento Guarda che roba Questo è tanto di S2 La porta dietro chiusa Aprila E non si può Si apre dall'altro lato Se non sbaglio Da qua si fa lo skip Facciamo lo skip per 8 Eh no Guarda che pulviscolo atmosferico Il polivinil cloruro Sali Skip per 8 Esatto In che senso sali Che cazzo dite Ah Ho capito Agica put Chiave dell'evasore fiscale E qui abbiamo Il cazzo No aspetta Ho sbagliato Ma infatti Non si può Chiave della cella chiusa Sì della cella di sotto Ok vabbè Comunque abbiamo aperto Un mezzo shortcut Il che va bene Di sotto qua C'era una cella Invece che dobbiamo Aprire con questa Che è questa qua No E che cazzo Che armatura sto usando Raffaello Sto usando Te lo dico subito Armatura del boia No back sitting No no Si può fare il back sitting Quella finestra Sopra vai a destra Ok Ah Certo Certo Comodissima Anima del sangue Di loop Maledetto Maldito Oh cazzo Mamma mi son cagato addosso Sedia a dondolo Benvenuto Quello era un mimixie Doveva essere Ha deciso invece di essere Un gigante Cazzutissimo Vai Vai Allora Vieni qua Bezzo di cazzo Allora Qua la roba è Lo schippiamo Lo facciamo Lo facciamo Ah ma si può Bextebbare Sto cesso Ah Esamino Boom Uh Tempesta di cazzo Iniziamo a fare la bet Per il boss Dai Che dite Guarda Guarda che carino Che arriva Aspetta eh Dai fermo lì Che intanto faccio un attimo La bet Non mi colpi Devo fare la bet Lasciami stare Ho fatto la bet Prego Comunque sei morto Non ti ho fatto più tornare Ollo È vero Ho curato la vacuità Ma che cazzo Questa zanzara più piccola In Calabria Ecco Persona più tranquilla Di Catanzaro Gemma di cristallo Allora Allora Ma lui è in chill Alla fine È mega nel chill No 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 Stavamo chillando Ok Non per sfiducia Ma dato che prima hai trovato un boss Che ti ha messo Molto alla prova Sto nella difensiva Ah voti no Benissimo Me ne ricorderò Per sempre Me lo ricorderò Stava male Stava male Sì Non stava benissimo Non stava benissimo Dove devo andare Dove devo andare Non mi ricordo più Non è di qua Vero No Oddio sì È di qua Complimenti Sì devo andare esattamente Di qua Oddio Ho preso la strada giusta Con cosa Con cosa ha sostituito il gigante Ah con un saggio di cristallo Va bene No No Questo non me lo devi fare Oh Ok Ok Perfetto Come sei morto Questa è un'ottima domanda Sono stato colpito Attraverso un muro Questo è il modo In cui Mauro Ha perso l'uso Della vita Mauro che scuola ha fatto Università della strada Guarda Mauro Lo sbrugnatore Perché non indosso i pantaloni Chiedono su tiktok Perché le palle di Mauro Devono stare al fresco Per fortuna non respawno A quel coso incredibile Signori Vi auguro un buon proseguimento Io vado di qua Sento che vi state divertendo Quindi io sono contento Proseguo da questa parte Prego Scenda pure lei Qui non c'è niente E stare fuori Pensando di essere safe È comunque un errore Ok Sborro benvenuto Guarda che roba Guarda che roba Sapete che vi dico Sapete Che cazzo vi dico Che io qua corro Oddio Prendo quell'oggetto Ah certo Giustamente anche un angelo Del castello di Lotri Va bene Ovviamente Là si corre raga Adesso va bene tutto Ma si corre Sto cercando di pulire le aree Perché è il bello Anche quello Però no 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 Si corre Basta lì Sto evacuando Sì Mauro ha Evacuato Allora Via Inizia la corsetta Vai di corsetta Eh lo so che in fondo Ci sono due casse Però raga Non ne usciamo vivi In realtà ci sono una cassa E un minic No Dobbiamo rannare Raga Minchia La lastra è buonissima Oh pezzo di merda Non farlo mai più Ah Chiave della vecchia cella Che cazzo apriva questa Raga Ci mancavi Solo tu Solo tu mancavi Guarda Solo lui Ma guarda che cazzo Sta succedendo Oh che croce Una vecchia cella Sì sì Forse sì Scudo del puzzos Via Aia Ho sbattuto il gomito Non è vero Ho fatto un backflip In realtà Uh lì c'è un oggettino Ora lo riprendiamo Oh Another one Da che lato siamo Dite che va la pena No Non facciamo ancora un salto All'altare Facciamo dopo Facciamo dopo Facciamo dopo Ci finiamo l'area A sto punto Pigliamo il falò Dopo E poi lo facciamo È meglio No Sbagliato Vabbè Poco male Tiriamo su questo E scendiamo Allora Piano di marcia Piano di marcia Chat Finiamo qui l'area Prendiamo il bel Falò Ah c'è un backflip 1 2 3 Fatto Prendiamo Il 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 falò Dopo Livelliamo Portiamo l'arma A più 10 Tra l'altro abbiamo Due lastre di tanite Sta roba è ottima Botta di culo Incredibile Due di fila E poi si va a fare Il boss Passiamo da dentro Sperando di non trovare Roba Allucinante Ah giusto Questo è considerato Un oggetto chiave Si è Si è terrato Un po' Pesante Stavolta Dici Pino Ma allora Ti dirò Che Ultimamente Sto atterrando Sulla Sulla Ciolla Stocco di Irithil Ammetti Che è meno Problematico Senza carcerieri Maledetti Sì esatto Qui in realtà Qualunque cosa È meglio Di quei cazzo Di carcerieri Oddio Ho parlato Va che bello Va che bellezza Qui Va che bellezza No DS3 Comunque È troppo bello Piccone Non mi rompere I coglioni Guarda che roba Molto DS2 Sta roba È molto DS2 Oh Capitale Sbrofanata Allora Ti sale Tra l'altro Guarda giusti giusti Sta per finire la bet Siamo quasi arrivati dal boss Eh Qua c'è il nostro amico Se dovessi scegliere Di rigiocare un souls Come la prima volta Quale souls Sceglieresti Se parliamo proprio di souls Inteso saga di dark souls Il primo Comunque Se parliamo di souls Inteso I souls like Slash Giochi from Bloodborne Ti devo dire Bloodborne Ti devo dire Per forza Bloodborne Solo un livello E iniziano a costare Va bene Bloodborne Overrated Vai fuori Da questa chat L'armona più 10 Rinforzo arma Supremo Tra l'altro sto beccando gli obiettivi Perché non ho mai effettivamente Giocato a dark souls 3 Sul pc L'ho comprato qualche giorno fa Capitale Scusa l'ignoranza Ma sta armatura brutta Come un dispiacere Con i legg in sotto È un perizoma Lele La usi perché è molto forte Oppure c'è un motivo preciso Tipo far entrare Mauro Nei village people E quello è il motivo preciso Farlo entrare nei village people Non è particolarmente forte Cioè la parte sopra In realtà è molto forte Anche se è brutta La corona e il perizoma Fanno cacare Ma Diciamo che conferiscono Un certo swag Al maurone E questo ti dirò Che alla fine Dà punti extra Per quanto mi riguarda Da esperto souls player Ti posso dire Che questa roba Dà punti extra Poi fai quello che ti pare Abbiamo missato un drop Vero? Dobbiamo risalire Però non mi ricordo Come si prendeva l'altro Punti palle extra Esatto Guarda la palla Che penzola Vedi? Anche salendo le scale La vedi bene Guarda il penzolume E vedi lì c'è un drop Che non mi ricordo Ah si prende da fuori Quello Via Via Ma no Da qui siamo arrivati Ma allora niente Sono rincoglionito Raga dai Ok mi hai convinto Se mai giocherò a un DS Andrò in giro Imperizoma e Corona È giusto così? Devo andare di là Direi di sì Quando finisco Kingdom Hearts 3 a livello 1 Circa 8 mesi fa Più o meno È la risposta È già finita È già finita Antonio È tutta su YouTube Cioè sia la La run completa in episodi Su Noxile TV Con tutto senza tagli Sia c'è un video Di circa mezz'oretta Che è riassunto della run Sul mio canale principale Allora Pronti al boss? Are you ready? Loro li potremmo anche ignorare Tanto non ci sono oggetti lì Oh cazzo Io suggerisco Di darsi una cazzo di calmata Guarda mi lancia la merda Guarda il ricettacolone Lì c'è un oggetto quindi Uno di loro si svegliava Vero? Il pronostico È finito Qualche minuto fa La seguo su TikTok Mi manca l'ultima parte Ma in realtà Mi sa che tu hai seguito Un repost Perché ultimamente L'ho iniziata a repostare Ma se vai indietro Su TikTok La trovi E ci dovrebbe essere Anche la Se vai sul mio profilo Dovresti vedere Proprio la Tipo la playlist Che si chiama Kingdom Hearts 3 Crit level 1 E ci sono tutti i video Credo siano 5 o 6 In totale Comunque Sono esattamente Quello che c'è nel video Di YouTube Cioè sono semplicemente Le clip del video YouTube Quindi se tu vai sul mio canale YouTube Che si chiama Solo Noxy L'uguale al mio nome Di TikTok Quindi su quello principale Trovi Il riassunto della run Diciamo Che è quello di quei video lì Che dura circa mezz'oretta E sono tutte le 6 parti Da Sigmaier In realtà ci siamo già andati Ma in qualche modo Ho rotto la quest E non mi ricordo Come e quando Qua c'erano oggetti Oddio c'è un forzierino C'è anche un oggetto Mi sali dietro Ah no È una lucertola Ma Lascierei perdere Grazie Oddio Potevo bracciolarmi Però vabbè Figurati Antonio Allora Pronti? A scoprire chi si cela Dietro la porta Ok Poteva andare peggio Poteva andare anche meglio Non credo che ci sia la fase Con il fratello Porca puttana Siamo morti? No Dai Lorian Boom baby Sbrugnato Sbrugnato Lorian Ok Signore delle tempeste Morto nel teleport Esatto Direttamente teletrasportato All'obitorio Devastato Ora Guile Qualche try di Guile Me lo faccio Sì Qualche try di Guile Me lo faccio Quindi vi parte Una bella Bettina Di Direi in due minuti Qua Due minuti va bene Fate veloci Ragazzi Per Guile Che è al posto Della Dancer Via Partita Mi livello Andiamo da Guile Si è obbligato per andare avanti No mi mancano ancora i team Mi manca ancora Norlondo Non sono obbligato in realtà Solo Midir manca No mancano anche altri boss forti Mi sa Manca Nameless Manca Frida No raga Ne mancano Ne mancano i boss forti Allora Dobbiamo andare a Lothric No no Nameless può uscire Può uscire Mettato sul sì Bravo Volpi Punto tutto Fai che non divento Pobre Hai battato sul no Grave errore Che erroraccio Che erroraccio Non fidarsi del Pro playerito Che erroraccio Un errore da Dilettanti Da veri Dilettanti Signor Milwood Io vado dentro Non si arrabbi Da veri Dilettanti Pronti Nagis Benvenuto Cazzo Cazzo Avevo schivato In teoria Poi tu hai deciso Di no E quindi facciamo Di no Per carità Però Fai dei danni Imbarazzanti Gael Fattelo dire No No Testa bianca del predicatore Perché no Perché no Raga Frastraiato È sparito Si è vergognato Troppo Ha capito Che affrontare Mauro È stato un gravissimo Errore Scusate Prima di chiudere Questa bet 15 1585 Non mi avete trastato Molto male Molto male Molto 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 male Bravo Francesco Che hai trastato L'ho L'ho Perso 25 25k Era ora Nottone Era ora Era ora Vabbè E a sto punto Saliamo dai Ci accendiamo Il falò Di sopra Così ce l'abbiamo Già per dopo In un mese Ho perso Penso Più di 200k Porca troia Osso del ritorno Andiamo a vedere Oceiros Eh ma Oceiros C'è ancora un pezzettino Prima di Oceiros Mi sa Maledetto Ah giusto Finita La sprite Bello il castello Di Lothric Bello in culo Oh ciao Gintok Da dove sei Sbucato Questa nuova armetta Sta cambiando il gameplay È forte È forte Allora Facciamo sto 40 vite E poi non se ne parla più Così dai Oddio Anche un po' di stamina Forse Un pochino di stamina In effetti Ci servirebbe Quanto abbiamo Eh 16 Almeno 20 25 magari Sto usando La spada di Astora Flavio Non sono mai Non sono mai uscito Dalla live In realtà Ah Sei stato silente Oggi E va bene E va bene Comunque Cosa ci resta Da fare Io direi Sapete cosa facciamo Ci prendiamo Il primo falò Di Analrodeo Da qui Ci prendiamo il falò Di Analrodeo Quasi sette giorni Buttati Allora Scusi Signor Paletti Citrones Perché mi iscrivi Su tiktok Come sta andando La randomizer Secondo me Secondo me È bene Dai È divertente Ci sta dando Delle buone sfide Ma ci sta dando Anche la possibilità Di fare una build Che comunque è figa Mi sto divertendo A me sta piacendo Sta rando È una bella nuova esperienza Non so voi Ma a me sta piacendo Guarda qua È gigante Senza texture Cromati Baby Giganti Cromati E tu Oh cazzo Potete colpirvi A vicenda Questa è un'ottima cosa Prego prego Colpitevi a vicenda Colpitevi a vicenda Sì sì Oh shit Oh una torcia Questa ci svolta la run Raga Ci svolta la run La torcia Scusa Schiaffetto Grazie Droppi No eh Va bene Comunque la torcia Ottima Odiosa Ecco l'anima di Wallner Giustamente La signora Barese Col martellone Sapete anche cosa Dobbiamo fare Lo facciamo dopo Il falò Andare a vedere Da L'Hoodlet Gli oggetti nuovi Non era qui Ecco È la torcia Cicarria Cicarria Qui onestamente Qualunque cosa ci sia È meglio di quello Che ci sarebbe Realmente Davvero Qualunque Anche lui Ok forse lui no Forse lui no Devo essere sincero Lui è l'unica Lui è l'unica cosa peggiore Di quella che poteva L'unica L'unica in tutti e tre Dark Souls Probabilmente L'unica Qualunque cosa Esatto Allora Ah vabbè Però non ha troppa vita È gestibile Andato Ok Lui è tranquillo Quindi Eccolo lì Oh Un bare salvo L'arcidiacono salvuccio Da Catania Guarda qua Ci uniamo al pat Why not Oh Niente falò se non uccidi tutti Offriamo resti umani No Per ora no Niente falò se non uccido tutti E allora mi spiace Signor gigantone È giunta la sua ora Praticamente tutta la difficoltà Di questi stronzi È che sono nella merda No Quindi qua non c'è la merda Perciò Basta picchiarli Tra l'altro vedo che lui Non ha Molta Diciamo Molta iniziativa Sta provando a scappare Andando verso un muro Questo è il suo piano Va bene Signore Signore dove va Esatto Ok Vecchia veste da stregone Per ora non m'assetto Meglio delle due bestie Sì a mani basse Alla fine sì Allora il gigante Non mi preoccupava per niente Il serpentone Vi devo dire Che un po' mi ha preoccupato Quando l'ho visto Ma poi ho capito Che tanto Stava lì e non faceva un cazzo Quindi l'abbiamo picchiato Easy Tra l'altro Mi viene in mente La teoria del serpentone Solaire A me non convince Voi cosa ne pensate A me non convince Voi credete Però so che è una teoria Però so che è una teoria Abbastanza blasonata Un pochettino No ma ci sono No ma ci sono delle Cioè nel senso Non è una teoria Completamente campata in aria Cioè non è tipo Come se io adesso Dico ah vabbè Aldrich in realtà È di foggia Cioè Non è una di quelle cose Su quel livello lì Per carità Però Mh Cioè Non ci sono abbastanza punti Secondo me Non sta abbastanza in piedi Comunque Aldrich di foggia In realtà è vero È canonico Aldrich Actual Foggiano Esatto Guanti d'arme Delle spine Guarda che bella Norlondo Ci sono stato tra l'altro Tipo ieri O l'altro ieri In Dark Souls 1 Alla fine si torna sempre Dove si è stati bene No? Guarda qua Un altro alberone Ma quanti cazzo Ce ne ha messi Starun Oh Niente drop qua? No Obla Non è caduto cazzo Vabbè Di là che cazzo c'era? Quando speedrun di DS1 Ma sai che Lixon Non è una roba Che mi dispiacerebbe Del tutto Io non sono un gran che Nelle speedrun Cioè O meglio Non mi sono mai cimentato Quindi non lo so Però Secondo me è carino Da speedrunnare DS1 Shortcut per Sally Ah E che cazzo te ne fai Se la sblocchi Dopo aver già fatto Sally E infatti poco e niente E solo per dire Abbiamo interconnesso la mappa Ok Altre bet No Ancora manca Un bel po' Per le bet Abbiamo rotto quest di Harry Quindi Non ci si sposa Va bene Come l'ho rotta E non sono mai andato All'ogardente Bravo Benvenuto In che senso Il season pass Ho già i DLC Qui non c'erano Ah no In DS1 Qua ci sono le chest Ah no Anche qui Sì sì Potrei recuperarla Potrei recuperarla Ma sti cazzi Comunque Cioè Esiste un season pass Dei source Sì È un season pass Insomma È il pacchetto Con i Con i DLC Allora Ma ci sarà Danno All'arrodeo Allora non l'hai rotta Non so se l'ho rotta In realtà Forse dopo che fa il Sullivan Si rompe Se non sei ancora andato Alla guardia Non so quando si rompe Ma è fisicamente Un pacchetto No Esatto 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 Il pacchetto azionario Ah stavi rispondendo A uno in chat Ok ok Scusami Qui tra l'altro Si sblocca anche la parte Che riporta Alla chiesa Sta roba qua Io non so come cazzo L'hanno scoperta La prima volta Ma va bene Però in realtà Guarda il Maurone In realtà Prima di far questo Mi piglierei il falò Perché sennò Non ci posso tornare Poi Ma che bello Che entrata scenica Che entrata scenica Ragazzi Cosa ne penso I Lords of the Fallen Purtroppo Non mi ha Non mi ha preso Allora L'ho giocato a Day 1 Era funestato Da problemi tecnici Problemi che poi Sono stati risolti Non è una scusante I giochi devono uscire Fatti bene Non fatti alla cazzo Ma va bene Ci sta Però devo dire Che anche dopo Averlo riprovato Che i problemi tecnici Erano più o meno risolti Su PC Non mi ha convinto Al 100% Non mi ha Non mi ha Non mi ha proprio convinto Facciamoci lo shortcut Lì da Iorshka Analrodeo Lies of P Invece Un gran gioco Un gran gioco Veramente bello No beh sì L'Iorshka Folline è giocabile Raga Certo Non sto dicendo Che fa schifo Ci mancherebbe Però non dico Non mi ha preso Ah se si è masochistia Ok No ma è giocabile Per carità Però non mi ha preso Vai Diablo 4 Non l'ho giocato Non sono un Grande fan di Diablo Non l'ho mai giocato In realtà Non mi ha mai preso Particolarmente Il vecchio Of The Fallen Ti dirò Mi chiedono su TikTok Lorenzo Che L'altro Stavo Quando compravo DS1 Su Su PC Ho visto che c'era in sconto Tipo a 3 euro E ho detto Vabbè lo prendo Così lo provo L'ho provato l'altra sera Mentre ero in chat su Discord Ci ho giocato un pochino Secondo me non è malaccio Cioè Oddio Non mi viene tutta Stavo voglia di continuare a giocarlo Perché alla fine ho altre robe Che sto facendo Ok Cioè l'ho mezzo droppato lì Volevo solo provarlo Ho detto per 3 euro Ci sta Però mi sembrava che alla fine Non fosse così male Non era così male Aveva una sua personalità Cioè non era il Allora Quello è il primo Solslide Dicono Ma in realtà Mi sembrava che avesse comunque Una sua originalità In alcune cose No Se domani uscisse alla cazzo Silksong lo porteresti Con la cam Farei la cam apposita Ah non possiamo Perché non possiamo accedere al patto Ah perché siamo vacui Ok Ti manca la prova Quale prova Credevo che fosse per l'avacuità Qui dovrebbero esserci degli oggetti Se non ricordo male Sì Basta solo uno Vabbè Meglio di niente Deve avere almeno una prova Per entrare Ah l'orecchio Ok Via Blasphemous L'ho provato Diversi anni fa E Sai Non sono un grande fan De Metroidvania Quindi non mi ha Catturato Però magari gliela vorrei dare Un'altra chance Why not Shit Ah c'è un backflip Attenzione Ora lo faccio eh Un due Fatto Mentre giocavo Il secondo è meglio Dice È però giocarlo senza il primo Cioè Sto punto se devo dargli Un'altra possibilità Parto comunque dal primo Muschio purtroppo Pureo Questa è finta Vero Sì Questa qua si apre da dentro Se non ricordo male Qua non c'era nessuno Davvero Wow Disperazione avanti Disperazione avanti Uno in chat raga Subito uno in chat Bravo Un po' di silenzio Lui smash Comunque va bene Guarda la Norlondo Spenta Che bel gioco di luci Su questi vetri Questo blu Freddo 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 notturno Ah Ah ti sentivo un rumorino L'ho sostituito con lui Va bene Questa è buonissima raga Servirebbero forse di più Le schegge d'osso A dire la verità Però Ok Vabbè Pino Fai una bella cosa Bet di due minuti Va Siamo arrivati Sì però Anche meno di così Posso dirvi ragazzi Anche un po' meno Secondo me Yorm Ma Me lo accollerei Yorm Vi dico la verità Pronostico avviato Forza ragazzi Potete mettare Mister ciola lunga Apriamo la porta Ma cazzo Ah ok ma vi danneggiate a vicenda però Vabbè Vabbè Ok Ok Va bene Mi sono reso conto Che mi sono sabbatto col prime da un profilo che non mi ricordavo esistesse Ah sono Sara 973 Di qualche giorno fa E vabbè mi risabbo ora Ah va bene Va bene Va bene Gino Allora Poi c'è il buon vecchio Mortal Shell Che l'ho droppato subito Mortal Shell non mi è piaciuto raga Nemmeno a me Ero più deluso che adesso Eh sì anche a me Mi ha deluso Mi ha deluso Si stava incazzato nero proprio Mortal Shell giocato per 5 minuti Eh sì purtroppo Mortal Shell Sì Non mi è piaciuto Non mi è piaciuto Raga non sono un critico Non sono un recensore È proprio gusto personale Quindi non Lo sapete Non mi elevo Nel dare giudizi A volte faccio le mie analisi Quando le faccio Porto i dati In questo caso non è un'analisi Con Con dati Alle spalle Ci ho giocato e mi ha fatto cagare Soggettivo Magari dovrei dare un'altra possibilità Possibile Boh raga Entro dal boss Diretto Vabbè mi prendo le anime E poi entro dal boss Vediamo se riesco a aprire solo la porta Andiamo Chissà chi c'è dietro quella porta Chissà chi si cela Magari dovresti ammettere Che Kingdom Hearts 2 è meglio del 3 Questo mai Non può ammettere il falso Esatto Vedo Una lama Cazzo sai che ci sta bene Comunque ecco Prova che possono uscire le fasi 2 E che possono uscire persino Senza sound effects A quanto pare Ottimo Sono rimasto un attimo stannato Perché loro Morfologicamente Sono simili ad Aldrich E quindi mi ha un attimo lasciato Così Non l'ho capito subito Poi ho detto vabbè Ottimo comunque Un ottimo try Va bene Allora Vai ne faccio partire un'altra Sempre da due minuti Così intanto mi vado a potenziare L'Estus Zespriz Benvenuto Esatto Abbiamo Orstein e Smug Versione di S3 Beh c'è andato la doppia boss fight A Dan al Rodeo Avrei tre frasi Tre fasi di Fride No Perché due Sono all'interno della stessa Secondo me Comunque vedete che La lore di questa randomizer È canon raga Fai richiami di S1 Anche Chi lo doveva dire Vabbè gli diamo anche I vari carboni Ah tra l'altro abbiamo Se non sbaglio Esatto Cosa ci dà di nuovo Bah Niente interessante Invece vorrei vedere Da Già che siamo qua A sto punto Faccio un saltino sopra Da Ludlet No Dove minchia stava Ludlet? Ah qua Ecco vedi che c'è un po' di roba nuova Incisione molto bene Vabbè Vabbè La strada di Tanita non è male Volendo Spadone dell'anima Boh sì Tutta roba che non ci interessa troppo Tranne forse questa dopo Il palese si prende l'incisione Esatto Scudo del Falco ADS2 Sì Va bene Dai Famoci Sti principi gemelli Why not Bet È andata Andata la bet Aldrich time Esatto Star run super sfortunata Ma Allora Alcuni boss Sono stati belli tosti Per come li ha messi Più di tutti secondo me il Soul of Cinder Al posto di Walnir è stato veramente quello più 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 sbordonato Per usare un termine tecnico Però Anche oggetti molto buoni Stiamo facendo una bella build Abbiamo già l'arma più 10 Cioè Porca miseria Senza sound effects è più difficile Tra l'altro Non ti regoli Cazzo Belli tosti Belli tosti Vai parte un'altra bella Bettina Via Questa volta di un minuto dovete essere velocissimi Se li famo Però ci stanno facendo loro a noi Però vediamo Attenzione Che cazzo Maledetto Devo cambiare questi Comunque Il Maurone Qualunque roba si metta Si vede che ha schippato il leg day Ma l'ha fatto per voi eh L'ha fatto per voi Per non essere troppo forte Per darvi una chance In qualche modo Quanto è arrivato arrabbiato Lui Ma non c'è bisogno di fare così Dai Vabbè raga Cioè Ok Cosa vi devo dire Cioè così muoio prima di entrare È illegale Cazzo Vabbè Cazzo Faccio Purtroppo non riusciamo a farli in un ciclo Ma va bene ugualmente Arrivederci Sbordonati dal Maurone come sempre Come sempre Il Maurone ti sbordona fortissimo Vediamo quanti miscredenti Lellox benvenuto Guarda 6% a 94% Madonna come siete miscredenti Come siete miscredenti Ma una roba veramente Il Maurone cioè non vi fidate del Maurone Raga mamma mia No guarda una cosa veramente Ho trastato e ho fatto bene Bravo Fiumis Guarda il Maurone che bello Col baffetto 20-16k Si gode forte Tre biscotti Benvenuto Abbiamo fatto tutti i tizzoni Oh siamo in endgame raga Siamo in endgame Va bene in realtà Ci prendiamo Questo non l'avevamo mai acceso Questo qua E ci andiamo a fare qualche Level up Secondo me Sì Vi apposare i tizzoni Quindi 40 puliti Ottimo E posiamo i vari tizzoni Raga Questo è Aldrich No era Aldrich Boh No forse era Yorm No era Aldrich Era giusto Questo è l'Hudlet Questi dobbiamo ancora prendere E qui abbiamo Signori del Abyssos Di là E qui abbiamo Yorm Ridendo e scherzando L'abbiamo fatto subito Dici il boss O la run in generale Via Ok Mancano ovviamente solo Quelli lì sopra Chissà chi ce li darà Va bene Va bene raga Direi che per oggi Ci siamo Ci siamo La run lentamente Ma la run Secondo me Con i giusti tempi Godendosela Gael Ma Gael l'abbiamo già beccato Non penso possa uscire Come altro boss Oddio non lo so Perché quello che abbiamo Beccato in effetti È rimasto sempre in fase 1 Bisognerebbe capire Se li considera Effettivamente più boss Oppure no Perché c'è il filmato In mezzo in teoria Eh boh Ma lo so Sono soddisfatto Dai sono soddisfatto Della piega che sta Prendendo questa rando Stiamo Stiamo andando bene Stiamo andando bene Alla fine abbiamo la build giusta Ah scusate Aspetta Va bene tutto Va bene tutto però È il momento Di far respirare un po' Queste palle Per come la vedo io Ecco fatto Guarda il maurone nazionale Va che roba È bello eh Ragazzi Va bene Per oggi Ci fermiamo direi Arrivato tardi Darius Eh sì E vabbè Ma La buona notizia È che puoi recuperare Tutto comodamente On the mind Su NoxilTV Punto esclamativo Youtube in chat Ti escono i canali Youtube E su Youtube puoi recuperare Tutta la run Questo episodio uscirà Tra qualche giorno Ma Nel frattempo Recupererai gli altri Ragazzi Io Vi ringrazio Per aver seguito Spero Di avervi Intrattenuti E divertiti A dovere Noi ci vediamo Presto Non so quando sarà La prossima live Comunque Per quello C'è sempre Discord Punto esclamativo Discord Punto esclamativo Social Lì vi mando le notifiche Così non vi perdete niente Entrate Se vi va Server Gratuito per tutti Non solo per i sub E mentre state guardando Da Youtube È probabile che il prossimo episodio Uscirà comunque Tra uno o due giorni Plausibilmente Io Vi ringrazio ancora una volta Vi auguro una buona serata Una buona cena Che è quasi ora E ci sentiamo presto Ciao ragazzi Un bacione Mua Ciao ragazzi Ciao ragazzi